Musica Benvenuti al TG10, apertura del telegiornale che oggi dedichiamo al terremoto giudiziario che interessa Gela e la servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti blitz della Guardia di Finanza negli uffici della Tecra, del Comune, nelle abitazioni di alcuni amministratori e nella sede del lato CL2 sono stati requisiti diversi computer e documenti, due le persone indagate Terremoto giudiziario nell'ambito della raccolta e smaltimento dei rifiuti a Gela e di questa mattina il blitz della Guardia di Finanza diretta dal comandante Massimo De Vito negli uffici della Tecra, la società campana che dal 2013 gestisce il servizio in città Le fiamme gialle hanno perquisito e sequestrato negli uffici della stessa società ma anche al Comune, nelle abitazioni di alcuni amministratori e nella sede del lato CL2 diversi computer e documenti legati alla gestione dell'appalto I finanzieri si sono legati anche nello studio del commissario liquidatore del lato Giuseppe Panebianco alla ricerca di documenti utili al proseguio delle indagini Al momento attuale ci sono due persone indagate Si tratta di un funzionario della ditta, Antonio Baristreri, di 63 anni, ritenuto l'amministratore di fatto e di un impiegato comunale, Giuseppe Incardona, di 57 anni, in servizio nell'assessorato all'ambiente L'accusa è di frode in pubbliche forniture L'indagine è coordinata dalla procura di Gela, diretta da Fernando Asaro Sulla vicenda vige il massimo riservo e non sono escluse novità eclatanti I fari degli inquirenti si erano già accesi mesi addietro proprio sugli atti gestionali dal ciclo dei rifiuti In più di un'occasione, in consiglio comunale, le sedute sono state caratterizzate da accuse e veleni e le denunce sono giunte direttamente al Palazzo di Giustizia Lato CL2 attualmente vanta un credito di 13 milioni di euro verso il Comune La vicenda della gestione dei rifiuti ha creato numerosi debiti fuori bilancio per i canoni dovuti mentre i servizi extra sono stati pagati per prima Cambiamo argomento e adesso torniamo ad occuparci di città metropolitane e liberi consorsi Oggi sulla vicenda interviene il Comitato Gelensis Populus Dovremmo rivolgerci al TAR per avere diritto a ciò che i gelesi, i piazzesi e i nicemesi hanno scelto e lo faremo attraverso un pool di avvocati che sarà di primo ordine Appunto il primo avvocato che abbiamo contattato, che ha accettato di seguire questa vicenda è il professore Gettane Armao La scelta è stata fatta di concerto con l'amministrazione di Gela Adesso aspetteremo le altre amministrazioni per conoscere anche i nomi degli altri professori che a breve renderemo noti La dichiarazione appena sentita e rilasciata ieri dal coordinatore del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese Filippo Franzone non è andata giù al Comitato Gelensis Populus Sì alle battaglie per aver riconosciuto il diritto all'immigrazione alla città metropolitana di Catania ma come mai sostiene il portavoce Riliana Bellardita l'iniziativa è stata presa di concerto con l'amministrazione comunale? La scelta del professionista è stata fatta dal Comitato congiuntamente all'amministrazione Io chiaramente come penso qualunque cittadino, ligio è andato presso il sito online del Comune di Gela per andare a verificare se esisteva una delibera perché i professionisti si incaricano con delle delibere di giunta Devo essere sincera fino a questa mattina, tarda mattinata non esiste una delibera di giunta in cui risulta la nomina fatta da questo professionista per cui vorremmo capire a che titolo il signor Franzone fa questa dichiarazione alla quale comunque noi applaudiamo perché la nomina di un professionista è quello che noi abbiamo chiesto e che continuiamo a chiedere il nostro countdown non smette continuerà fino alla proposizione del ricorso ci saremmo aspettati che analoga dichiarazione o meglio questa dichiarazione venisse fatta dall'amministrazione ed inoltre aggiungo che la necessità della verifica dell'esistenza di una delibera di incarico si rende necessaria anche per capire l'incarico il contenuto l'oggetto dell'incarico che viene dato al professionista il professionista è uno stimato avvocato amministrativista vorremmo capire qual è l'atto che dovrà essere impugnato e visto che veniamo tacciati di falsità in ordine a termini per l'impugnazione che ce li vengano a dare quali sono questi termini dell'impugnazione invece di rimare tutti nella stessa direzione poi ogni giorno sorge una polemica la battaglia dei liberi consorsi e delle città metropolitane è una battaglia della comunità gelese non c'è nessuno che può assolutamente arrogarsi il diritto e men che meno io di dire che è una battaglia mia annuale conferenza a Diocesana del servizio per la promozione del sostegno economico alla chiesa si terrà sabato 15 ottobre alle 9.30 nella sala riunioni del museo Diocesano di piazza Armerina di fronte alla cattedrale l'incontro che sarà preseduto dal vescovo Monsignor Rosario Gisana permetterà di comunicare i risultati ottenuti nello scorso anno e di dibattere delle azioni da concordare e da intraprendere Gela è stata scelta come sede del convegno scientifico sulle patologie rare del sangue lo comunica l'AIPAM preseduta in città da Giacomo Giurato obiettivo di questa realtà è quello di aumentare le opportunità di ricerca scientifica sulla causa e la cura della mielofibrosi di divulgare la conoscenza della malattia fra i pazienti e i medici e di promuovere un'assistenza adeguata ai malati e alle loro famiglie l'iniziativa è il patrocinio dell'assemblea regionale siciliana della regione sicilia e del comune di Gela e costituisce una vetrina internazionale per la città del Golfo l'appuntamento è per il 15 ottobre alle 18 nella sala congressi della Sicania Resort il giorno dopo domenica 16 è prevista una tappa a Gela con una visita guidata presso i siti archeologici delle mura a Timoreontè del museo regionale e dei bagni greci sulle prossime scadenze elettorali lei Pepe Di Cristina segretaria locale del PD ha avuto numerosi incontri a Roma con i vertici nazionali del Partito Democratico è stata l'occasione per affrontare soprattutto la vertenza Gela perché già lei in più occasioni vi ha detto quando andrò a Roma porterò sul tavolo del responsabile del partito la problematica che vive la città sì questa è stata una prima fase della discussione che abbiamo voluto cominciare col partito nazionale l'abbiamo cominciata ai massimi livelli ieri ho avuto l'onore di partecipare a un incondo organizzativo a livello nazionale presieduto dal presidente nazionale del partito e dal vice segretario nazionale e in quell'intervento io ho suddiviso il mio intervento in due fasi la prima fase in cui ho sostenuto le ragioni che ci spingono a sostenere il sì al referendum nella seconda fase ho sostenuto le questioni che riguardano la nostra città che oggi vive una situazione drammatica di difficoltà di un'avvertenza che è tutt'altro che superato il primo partito della città nonostante all'opposizione a livello locale con forza e convinzione non può che usare i suoi interlocutori utilizzare le interlocuzioni nazionali per tentare di dare risposta adeguata a una città che sta soffrendo le risposte sono risposte di grande attenzione e di impegno ma avremo nelle prossime settimane una serie di tavoli a massimi livelli anche con esponenti del governo proprio per affrontare la questione con grande rispetto per tutte le istituzioni perché il nostro è un partito che lavora sempre in un quadro di responsabilità e tuttavia siccome il primo partito della città non può esimersi rispetto a grandi questioni vuole avere un'interlocuzione forte da parte dei dirigenti e del governo nazionale l'interlocuzione è di dirigenti e di esponenti di governo che sono attendi alla questione di Gela però per ai hanno sentito fino ad oggi soltanto i fiumi di parole di concreto cosa c'è? guardi io non sono tra quelli che può essere iscritto ai fiumi di parole perché insomma non ho le responsabilità rispetto al regresso io come il gruppo dirigente che sta lavorando nel partito democratico attualmente quello che noi possiamo dire è che noi abbiamo fatto un congresso e ci abbiamo messo la faccia non ci nascondiamo siamo in mezzo alla gente e siamo assolutamente convinti che rispetto alla questione industriale Gela debba continuare ad avere una vocazione industriale rispetto a questo il partito democratico della città ha avuto un atteggiamento di grande coerenza e continua a sostenere con convinzione che quella è la strada continuare ad avere una visione industriale che cambia nel rispetto dell'ambiente nella tutela del territorio ma non possiamo perdere quella storia perché perdere quella storia significherebbe ridimensionare dal nostro punto di vista in senso negativo questa città screening della vista gratuito a Gela in occasione della giornata mondiale della vista grazie alla sezione provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti Onlus di Caltanissetta che mette a disposizione un oculista e una unità oftalmica le visite oculistiche gratuite possono essere effettuate oggi e domani l'obiettivo è quello della sensibilizzazione del controllo periodico della salute degli occhi lo screening oculistico è rivolto in orario scolastico agli studenti del liceo scientifico Elio Vittorini nel pomeriggio l'unità si sposta in piazza Umberto I dove dalle 15.30 alle 19 l'intera cittadinanza può effettuare lo screening un campo scuola dedicato a tutte le persone che soffrono di diabete ai loro familiari e ai loro amici è organizzato dall'Ade presieduta da Giuseppe Curatolo si trarà da venerdì 14 a domenica 16 ottobre presso il villaggio turistico Sicania Resort gli incontri inizieranno venerdì alle 16.30 e termineranno domenica alle 17.30 diversi gli esperti in funzione di docenti per le singole competenze che prenderanno parte alla tre giorni di incontri prevista anche la partecipazione del presidente della casa del volontariato di Gela chi è interessato a partecipare può farlo chiamando il 393 3748 604 singolare protesta di due niscemesi contro l'annunciata chiusura del pronto soccorso all'ospedale Sorra Cecilia Basadocco dinanzi all'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta si sono sistemati all'interno di due bare martedì 11 ottobre dei cittadini di Niscemi hanno iniziato una protesta davanti la direzione dell'aspe nissena non alla chiusura del pronto soccorso si legge nei manifesti una protesta cominciata intorno alle 7 del mattino sino alle ore 20 circa i cittadini si sono presentati in via Cusmano con due bare e dei cartelli si torna a parlare di sanità dunque e soprattutto di un'altra protesta a qualche giorno di distanza da quella effettuata da un gruppo di cittadini di Mazzarino insieme all'amministrazione per richiedere un incontro con i vertici dell'asp e parlare del futuro dell'ospedale nel comune di Mazzarino questa volta invece la protesta arriva dai cittadini di Niscemi preoccupati per le sorti del suor Cecilia Besarocco le nostre richieste e le nostre preoccupazioni sono intanto di mantenere il pronto soccorso di renderlo autonomo con un'aggiunta di specialisti e di di personale idoneo per poter essere efficiente poi le preoccupazioni rimangono sempre da parte della politica dalla volontà politica regionale quella di sopprimerlo ma di sopprimerlo non ne dobbiamo nemmeno parlare perché noi siamo considerati a quanto pare delle persone non avendo il diritto di servizi sanitari noi ci opponiamo a questa cosa lo facciamo pacificamente civilmente e anche nelle sedi opportuni penali e amministrative per i cittadini sono le difficoltà di raggiungere in tempo per patologie d'emergenza da niscemi a gela perché loro vogliono riconvertire il pronto soccorso in PTE di postazione territoriale d'emergenza da niscemi a gela ci sono 40 minuti di viaggio di disagi per arrivare al pronto soccorso di gela e tante patologie di emergenza non permettono non danno il tempo nemmeno di arrivare a vivere al pronto soccorso di gela anche quest'anno la pubblica assistenza procivis protezione civile organizza un corso per soccorritori di livello avanzato per il servizio sulle ambulanze è possibile recarsi presso la sede di via ossidiana 23 per iscriversi e avere informazioni in merito alla formazione per essere abilitati al servizio di soccorritore sulle ambulanze il corso si svolgerà il martedì e il giovedì dalle 19 alle 21 sono 40 gli appuntamenti previsti e 75 le ore di tirocinio obbligatorie le lezioni saranno tenute da personale medico paramedico e da soccorritori esperti il corso comprenderà lezioni teoriche pratiche e un periodo di tirocinio la segreteria della pubblica assistenza procivis è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 per informazioni è possibile contattare la centrale operativa allo 0933 9383 12 oppure inviando un'email a p.a.procivis chiocciolatiscari.it fai la cosa giusta differenzi ai rifiuti mantieni il decoro urbano della nostra città oggi mercoledì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione gli imballaggi in plastica e metallo multimateriale nell'apposito sacco trasparente cosa conferire? plastica piatti e bicchieri monouso in plastica bottiglie di acqua e bibite flaconi tanniche dispenser e tubetti vuoti per detergenti detersivi shampoo e dentifricio prodotti per l'igiene della persona e della casa baschette contenitori buste e sacchetti per alimenti imballaggi in polistirolo reggette stringipacchi blister reti e cassette per frutta e verdura contenitori con sigle PET pvc pppps cosa conferire metalli lattine per bevande scatole e lattine in banda stagnata contenitori in metallo pelati tonno mais cibo per animali contenitori di prodotti per l'igiene personale tappi coperchi e stampi per dolci in metallo carta in alluminio di uso domestico pulita contenitori in alluminio per alimenti puliti bombolette spray vuote non pericolose coperchi in alluminio degli yogurt lattine con il simbolo AL come conferire il multimateriale gli imballaggi in plastica assieme agli imballaggi in metallo alluminio banda stagnata e metalli vanno conferiti e puliti utilizzando l'apposito sacco trasparente per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto eccoci seconda parte del telegiornale che apriamo parlandovi dell'incontro che si è svolto al comune di Gela tra la commissione bilancio e i componenti del comitato dei quartieri affrontare e risolvere il regolamento costitutivo dei comitati di quartiere con annesso bilancio partecipato è stato uno degli argomenti trattati nel corso della riunione tra il coordinamento dei comitati di quartiere di Gela e i componenti della commissione bilancio la commissione bilancio ha lavorato sul regolamento che disciplina il funzionamento dei comitati di quartiere e che di fatto è un regolamento rivoluzionario ovviamente come commissione bilancio siamo intervenuti sulle parti relativi alla contabilità a quello che può incidere sul bilancio comunale in particolare abbiamo emendato e lavorato con i comitati di quartiere tant'è che l'incontro è stato fatto assieme ai rappresentanti dei comitati di quartiere proprio per agevolare la realizzazione della democrazia partecipata il lavoro è stato fatto sia sulla parte che prevedeva la possibilità di assegnare immobili comunali ai comitati di quartiere possibilità che viene riconosciuto al regolamento e che noi abbiamo avallato purché questo venga mantenuto nell'onere della valutazione e poi un punto veramente molto importante è stato quello della democrazia partecipata e delle forme del bilancio partecipato dove almeno il 2% di un fondo specifico dovrà essere destinato a incentivare la democrazia partecipata al termine dell'incontro la bozza di regolamento è stata esitata favorevolmente dalla stessa commissione ed approvata all'unanimità da tutti i presidenti dei comitati di quartiere e spontanei del testo passa la commissione affari generali la quale avrà il compito di valutare il testo nella sua interezza ed esprimere un parere di conformità in relazione alle normative vigenti un rapporto di collaborazione importante e forte con tutti i comitati di quartiere al fine di andare al di là degli attuali comitati di quartiere quindi verso il superamento di questi organi e definire all'interno del consiglio comunale condistituzionalizzare tramite un regolamento nuove aree urbane che faranno la interfaccia tra la città il consiglio comunale e l'amministrazione comunale il presidente della commissione bilancio salvatore scerra si è dichiarato soddisfatto dell'incontro riconoscendo che il dibattito democratico scaturito è stato abbastanza proficuo perché ha consentito di chiarire importanti aspetti relativi sia alla quota percentuale da destinare ai vari quartieri sia a quelli connessi all'assegnazione dei locali da destinare alle aree urbane anche il presidente del coordinamento dei comitati di quartiere Carmelo Tandurella ha manifestato la propria soddisfazione riconoscendo l'importanza di questo primo importante passaggio ed auspicando un'altrettanta rapida disamina ed approvazione anche da parte della commissione affari generali per ricordare salvadore zuppardo a 18 anni dalla sua scomparsa e dopo i grandi successi delle precedenti edizioni del premio nazionale di poesia alla gorgone d'oro il centro di cultura e spiritualità cristiana salvadore zuppardo indice e organizza la diciassettesima edizione del prestigioso premio per informazioni 0933 937474 331 80 89 712 sarà presentato venerdì 14 ottobre alle 18 nella biblioteca comunale di via putera 1 a Gela il libro Mylan una verità nascosta di Lorenzo Marotta l'iniziativa è della libreria Mondadori in collaborazione al collo comune nel corso della settimana circa 240 atleti dai 18 ai 60 anni sono arrivati a Caltanissetta per partecipare alla prima prova di Coppa Sicilia un importante appuntamento per gli appassionati del biliardo sportivo la manifestazione si è svolta per la prima volta nel capoluogo nisseno mentre la prossima tappa si giocherà a Cerda a fine ottobre ogni giorno circa 40 atleti si sono sfidati nella specialità all'italiana e goriziana per arrivare alla finale di domenica 9 ottobre un evento che ha registrato la presenza di grandi nomi del mondo del biliardo siciliano e non solo e che ha visto trionfare Giuseppe Vinci seguito da Luca Aprile per la categoria primo, secondo e terzo mentre per le eccellenze la vittoria va a Davide Sgroi secondo Daniele Montereali Allora ai giovani questo sport piace moltissimo anche se soprattutto giocano diciamo a 15 palle almeno a Caltanissetta però molti si sono avvicinati anche al gioco dell'italiana come viene chiamato in gergo cioè il gioco con i brilli giovani che giocano ce n'è tanti soprattutto sia a Caltanissetta che in tutta la Sicilia questo torneo praticamente è la prima prova della Coppa Sicilia di biliardo sportivo che abbiamo organizzato noi per la prima volta ci siamo stati all'incirca 240 iscritti tra cui le migliori stack della Sicilia qualcuno qualche nome tipo Daniele Montereali che è Tano Romeo che è l'unico professionista in Sicilia Nicola Sgroi Davide Rizzo eccetera la Coppa Sicilia intanto è una manifestazione sportiva che si svolge da tantissimi anni ed è una delle manifestazioni più importanti d'Italia e comunque in Sicilia è la più importante è la prima manifestazione a questa gara appunto partecipano atleti che provengono da ogni provincia della regione e niente chiaramente giocano per un trofeo per un monte premi relativo alla gara specifica e poi comunque alla fine per un risultato finale che garantirà i primi posti di partecipare alle finali nazionali che si svolgono quest'anno sono state fatte a Nova Gorizza e quindi sempre un prestigio per chi partecipa a queste finali perché può diventare campione italiano si svolgerà venerdì 14 ottobre alle 9.30 l'ottava edizione Corri nel Parco di Montelungo promossa dalla soluzione Green Sport di Giuseppe Veretti si tratta di una corsa promozionale ludico-ricreativa che coinvolgerà centinaia di bambini delle scuole con l'intento di promuovere l'attività motoria all'aperto parte della ricavato delle adesioni sarà devoluto all'Unicef saranno presenti anche il corpo forestale e la croce rossa appuntamento col cinema all'antidoto di Machidella a Gela da giovedì 13 ottobre sarà proiettato il film Go With Me dunque da domani sono due gli orari della programmazione 19.30 e 21.30 abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni grazie per aver guardato l'intento grazie per aver guardato